28 di cosa di vita è troppo poco serve 120 un colpo in mano ora che devo fare hai preso la runa la persona devi prendere la runa di quella di 0 0 sia la tua sia quella dell'avversario prima quella dell'avversario ovviamente perché ci sei attaccato sbagliato sbagliato si sbagliato la 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 I'll risk it The enemy's top tower has fallen For the greater good With all my will Ah, the potential for sacrifices at once In fate's hands In pain is power Willingly Yes Mm-hmm Your middle tower is under attack Mm-hmm The enemy's top tower has fallen Mm-hmm Your bottom tower is under attack Your bottom tower is under attack The enemy's middle tower has fallen The enemy's middle tower has fallen Mm-hmm 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 The enemy's middle tower has fallen Mm-hmm 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 Ho battuto il mio personal best. Ho battuto il nostro corso gratuito.